Eh si ragazzi, eh si, eh si, eh si, è sick parade, è sick parade ragazzi, è sick parade, allora, 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 vi invito a lasciare mille mi piace qui sotto, mille mi piace sotto questo video e esce subito un altro nuovissimo sick parade, vi invito se non l'avete già fatto anche di iscrivervi al canale, uno perché chi non si iscriva al canale non arriva a Natale quindi mi pare il caso di iscriversi e due ragazzi è ancora più importante perché se volete che ogni giorno dell'anno esca questo sick parade, l'appuntamento giornaliero alle ore 12 del mattino, 12 circa, Minuto in più, minuto in meno, allora eccoci qua con il sick parade, le 10 notizie più importanti del giorno che vi accompagneranno sempre, se andrà bene vi accompagneranno sempre E allora partiamo dalla notizia numero 10 perché pare che Malinoski, sì esatto Malinoski di cui ieri vi avevo parlato, vi avevo parlato della possibilità di vedere Malinoski altrove, del fatto che insomma anche la moglie credo di Malinoski avesse parlato dicendo che insomma conta prima di tutto la carriera Voi ho detto chiaramente che l'Atalanta non è che può dare in questo momento chissà quale presente a Malinoski se c'è una squadra che ha degli obiettivi un po' più alti e avrebbe la possibilità di prenderlo e metterlo di torno e quindi lui avrebbe la possibilità di andare al giornale lì E io penso che davanti ad un'offerta del Tottenham fatta bene Malinoski possa dire sì Dispiace perché la Serie A sta perdendo dei pezzi non indifferentemente, non scarsi ok? Anche se va detto comunque che lo scorso anno ci è andata molto peggio quindi rispetto a quelli che abbiamo preso quest'anno Quindi mi viene in mente il fatto che siamo riusciti a tenere Dybala in Italia, mi viene in mente il fatto che abbiamo portato in Italia a Ndombele, che abbiamo riportato in Italia a Lukaku Mi viene in mente abbiamo portato in Italia Di Maria, Pogba, insomma quest'anno sta andando generalmente meglio, lo scorso anno li avevamo persi tutti Però mi dispiace che Malinoski vada a giocare all'estero, detto ciò qualora dovesse accadere è una cosa che è abbastanza palese che accada perché ripeto il Tottenham fa la Champions Quindi è normale che il calciatore vedendo anche una possibilità di futuro non rosio da parte dell'Atalanta potrebbe prendere questa scelta qui Alla posizione numero 9, attenzione perché ci siamo, io ancora non ho detto nulla, io ancora non sono riuscito a dire la mia perché veramente ragazzi sembra fatto apposta Ci stanno portando avanti questa storia da anni, Belotti ci siamo, pare vicinissimo, è partito il countdown, Belotti potrebbe a breve diventare un nuovo giocatore della Roma Adesso addirittura sembra che a Fena possa essere piazzato, in realtà non c'è nemmeno il problema di dire l'attaccante voleva troppo Pare secondo diverse storie giornalistiche che addirittura si sia ridotto l'ingaggio pur di firmare per la Roma con Di Bala che chiede pazienza a Belotti perché voleva che lo raggiungesse a Roma Quindi sotto questo punto di vista io credo che solo una clamorosità potrebbe portare Belotti altrove visto che la Roma sta attendendo Belotti e Belotti sta attendendo la Roma, il problema secondo me non era tanto l'ingaggio quanto il fatto che la Roma voleva prima togliersi dalle balle L'ingaggio di Shomurodov perché non poteva avere due ingaggi importanti sulle spalle Sembra però al di là di a Fena o non a Fena se dovesse partire in prestito o meno che Belotti sarebbe disposto a ridursi talmente tanto l'ingaggio Da non far diventare un problema il fatto che la Roma abbia sia Belotti che Shomurodov E allora eccoci qua E allora eccoci qua e allora ecco che Belotti potrebbe a brevissimo diventare un nuovo giocatore della Roma Si parla tecnicamente di questa settimana, si parla tecnicamente di questo periodo quindi a breve dovrebbe appunto diventarlo Vedremo se lo diventerà durante il weekend, io ragazzi ovviamente non vedo l'ora ma poi ne parlerò giustamente in un video dedicato Detto questo passiamo alla notizia numero 8 Io vi giuro ragazzi che non vedevo da mesi un sick parade così carico Cioè se pensate che quelle che vi ho appena detto quindi Malinoski è la posizione 10 e Belotti quasi fatta è la posizione 9 Veramente ci sono bombe pazzesche oggi, c'è veramente notizie di mercato su notizie di mercato o notizie di calcio su notizie di calcio Perché poi qualcuno mi dice sick scusami tanto ma quando finisce il mercato come fai a fare il sick parade? Ma il sick parade non è calcio mercato ragazzi, adesso siamo nel pieno del calcio mercato quindi le 10 notizie che vanno per la maggiore sono calcio mercato Però ieri nel sick parade c'era il mio parere sulla Fiorentina, cioè quindi capite bene che calcio mercato fino a un certo punto Si parla sempre di cose, si parla sempre di vicissitudini di calcio E alla posizione numero 8 c'è una notizia di calcio mercato ma manco troppo Sono le parole di Galtier che dice chiaramente la finestra di mercato può sempre riservare delle sorprese Ma Neymar non ha mai chiesto di andarsene, si comporta bene negli allenamenti ed è performante in partita Non è un giocatore che stiamo tenendo in stand by E questa è una notizia, cioè la non notizia in questo caso delle volte capita, questa volta è capitato, è una notizia Cioè il fatto che Neymar non sia in vendita, il fatto che il Paris Saint Germain non abbia mai voluto togliersi dalla propria vista Neymar Si parlava del fatto che il Paris Saint Germain sarebbe stato disposto a regalarlo, a prestarlo pagando una parte dell'ingaggio Cercandogli una nuova sistemazione e tutte le problematiche varie Galtier ha parlato chiaramente, ha detto no guardate mi sa che vi state sbagliando, mi sa che non avete capito Neymar non è un problema, fa benissimo in partita, si allena benissimo, non sta dando fastidio a nessuno Non è un problema per nessuno, è un giocatore clamoroso, rimarrà a Parigi È una notizia, ripeto, anche questa che vi piaccia o non vi piaccia è una notizia E quest'anno il Paris Saint Germain riparte con quel trio là, con Neymar, con Messi e con Bappé Posto poi che dovremmo metterci un attimo a parlare della situazione relativa a Bappé e Messi Magari lo faremo in un sick parade, magari gli dedicherò un video Magari ne parleremo in qualche modo perché c'è sempre modo e bisogno di parlarne Però comunque la situazione a Parigi, io lo dico spesso, il Paris Saint Germain è una sorta di polveriera Succede di tutto, succede sempre un caos Comunque stavolta almeno Galtier, magari Galtier sarà capace essendo francese, essendo nel clima, essendo non un forestiero Sarà capace di prendere per le palle la squadra e di guidarla magari a quella Champions League Che il Paris Saint Germain sogna da anni ma che alla fine non arriva mai Alla posizione numero 7, Acerbi si avvicina all'Inter Allora Skriniar probabilmente rinnoverà Ieri avevo parlato del fatto che il Paris Saint Germain avesse fatto un altro passo verso Skriniar Un'altra offerta, si trattava di 60 più 10 per un totale di 70 L'Inter chiedeva 90, adesso l'Inter sta addirittura pensando a rinnovare il contratto a Skriniar E mettere a tacere tutte le voci perché si sono stufati di lavorare su questa situazione e vogliono lavorare su altro Acerbi si avvicina all'Inter Ho visto molti interisti contrariati, io non sono assolutamente contrariati Io credo che Acerbi sia un ottimo panchinaro, me lo prenderei alla Roma, ve lo dico chiaramente E ha giocato anche nella Lazio È in uscita, ci sono stati degli incontri, addirittura pare che adesso l'Otito abbia aperto al prestito Quindi questa è un'occasione per l'Inter importante Visto che l'Otito ha sempre fatto pugno duro su Acerbi dicendo non parte se non arriva l'offerta giusta Adesso pare che abbia aperto al prestito E la formula del prestito, prestito con diritto di riscatto è proprio quella che l'Inter voleva fare Quella che l'Inter voleva mettere Certo capisco gli interisti sono passati da poter prendere Akanji Che comunque è un giovane, giovane tra mille virgolette, sicuramente molto più giovane di Acerbi Che comunque ha fatto bene con il Borussia Dortmund anche adesso è fuori squadra Che in prospettiva poteva far bene eccetera A prendere Acerbi che magari gli fa un paio di stagioni e poi lo devi necessariamente cambiare Però se devi fare degli investimenti a perdere tanto vale farli invece a tappare Senza andare a buttare una marea di soldi Detto questo c'è solo un problema cioè che ballano due mensilità Due situazioni in cui l'Odito deve dare, se ho capito bene, due mensilità ad Acerbi E quindi finché questa situazione non si sblocca allora l'Inter non potrà andare sul calciatore bianco celeste Comunque la situazione relativa al difensore dell'Inter al momento è questa qua Detto questo alla posizione numero 6 troviamo invece la Fiorentina Che adesso pare proprio vicinissima ad un passo da Antonin Barak Vi ne avevo un pochino parlato ieri nel SIG Parade ma in modo proprio blando Perché avevo detto guardate la Fiorentina è su Barak Però visto che comunque le cifre sono alte sta monitorando anche altre situazioni Però era chiaro come Barak fosse in uscita dal Verona Visto che comunque lo stesso se non sbaglio direttore sportivo oltre che allenatore Hanno parlato della situazione ha detto chi non è sicuro che rimanga non gioca in questo momento Perché loro stanno preparando già la squadra per il campionato visto che il campionato è già partito E quindi eccola qua la situazione Barak non giocava vicinissimo alla Fiorentina 2 milioni di euro subito 10 milioni per il prestito per il riscatto che sarebbe un diritto Io non capisco come faccia il Verona a vendere a così pochi i propri giocatori Io ve lo giuro o ogni anno in modo quasi Vabbè in modo errato quasi facendo un autogol si presenta Che so il proprietario il presidente del Verona o il direttore sportivo che dice Raga lo sapete eh l'anno prossimo si punta la salvezza Non fate che andiamo in Europa tipo Lino Banfi l'aleatore del pallone con la Serie A e la retrocessione Oppure io non capisco perché comunque se tu sei una squadra che ha delle determinate Come posso dire degli obiettivi Puoi anche avere l'obiettivo di arrivare a metà classifica Però se arriva di più ti prendi di più E allora perché Barak che magari vuole anche andare via lo devi regalare Cioè per la Fiorentina questo è un colpaccio Io penso che la Fettina sta facendo un mercato da 8 praticamente Prendere anche Barak sarebbe la Non più secondo me che la ciliegina sulla torta Cioè forse sarebbe veramente l'acquisto più importante Dopo Jovic ha fatto in questa sessione di mercato da parte della Fiorentina Però continuo a non capire Invece i movimenti del Verona Perché Barak per me è una miniera d'oro Cioè Barak per me è un giocatore che dovresti dire Voglio 25 milioni di euro se no rimani a Verona Ma più o meno devi fare così Casale devi chiedere 15 E non meno di 10 Zaccagni devi chiedere 20 e non 8 Poi Zaccagni c'è il problema del dire Eh avevano promesso eccetera Ma quella è un'altra storia Ma cancellieri gliel'hai regalato Ma tu regali puntualmente ogni anno Ogni giocatore tuo Solo con Bulla noi ce l'hai fatto strapagare Per il resto hai regalato tutti E allora non capisco anche Barak Perché un prestito Perché con diritto Perché solo in totale 12 Non lo so Questa è la mia opinione Andiamo avanti alla posizione numero 5 È confermato Casemiro è un nuovo giocatore del Manchester United Non voglio andare nel dettaglio Perché vi anticipo Che vi farò un video Probabilmente anche qui su questo canale Nel quale parleremo di Casemiro Nuovo giocatore del Manchester United Ne parleremo perché ho voglia di dirvi la mia Ne parleremo perché ho voglia di fare un discorso Relativo a Casemiro Perché c'è tanto di cui parlare Perché non sono per niente d'accordo Con quello che sta dicendo la gente Sulla situazione Casemiro Però adesso è fatta È un calciatore del Manchester United I Red Devils lo hanno annunciato Con la consueta formula Dei vari club di Premier League Specificando che l'ufficialità definitiva Arriverà dopo le visite mediche Dice il Manchester United È lieto di annunciare Che il club ha raggiunto un accordo Con il Real Madrid Per il trasferimento di Casemiro Il trasferimento è vincolato Dall'accordo sulle condizioni personali E requisiti per il visto Nei Regni Uniti E altre visite mediche Vabbè eccetera 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 E poi hanno fatto il listone Ovviamente ragazzi Casemiro è un calciatore clamoroso Cioè il fatto che Casemiro cambi club È comunque una situazione epocale Nell'anno in cui anche Lewandowski Va al Barcellona Quindi anche Lewandowski cambia club Casemiro che va al Manchester United Insomma sono situazioni Per le quali bisogna secondo me Bisognerebbe secondo me Sottolineare il tutto Con un pennarello rosso Perché è fondamentale Quello che sta succedendo Attenzione perché questi sono i colpi Secondo me che deve fare il Manchester United E così secondo me il Manchester United Tornerà a brillare E tornerà ad essere enorme Per come effettivamente dovrebbe essere Posizione numero 5 Perché poi passiamo da un giocatore Che ha fatto Real Manchester Cioè Casemiro Ha un altro da fattore al Manchester Ma al Manchester non vuole rimanere Ovvero Cristiano Ronaldo Ronaldo sta cercando In tutti i modi e maniere Un nuovo club E addirittura pare che adesso Si sia proposto anche al Marsiglia Ragazzi Io inizio a capire Io credo che tutti gli sponsor Abbiano detto a Ronaldo Se fai la Champions Allora ti prendiamo Cioè ti teniamo Se non fai la Champions Perdi tutti gli sponsor O ti dimezzi i soldi Perché altrimenti non è possibile Che Ronaldo veramente preferisca Il Marsiglia Al Manchester United Veramente preferisca andare Al Borussia Dortm Un diario se l'ha parlato Rispetto che il Manchester United Facciamo una premessa Non credo minimamente Che il Marsiglia Riesca a permettersi Cristiano Ronaldo Cioè Ronaldo Si è anche proposto Però ragazzi Secondo me finisce là Cioè il Marsiglia Non ha quella potenza economica Se ce l'avesse Non avrebbe questa squadra Avrebbe una squadra Similare a quella Del Paris Saint Germain Se ci avesse questa possibilità economica Probabilmente Non andrebbe comunque Su Cristiano Ronaldo A 37 anni Ma andrebbe su altri calciatori Che garantirebbero un futuro Quindi è una voce Pare che Ronaldo Sotto la veste Di Mendes Si sia offerto Anche al Marsiglia Io quando vi dicevo Ronaldo Roma Ronaldo Roma Ronaldo Roma E voi mi prendevate per il culo Il fatto che Lui si sia proposto Alla Marsiglia Dimostra come lui Sarebbe andato via Per chiunque Il problema della Roma È che non faceva la Champions Infatti il Napoli Se avesse voluto Avrebbe preso Cristiano Ronaldo Se la Roma lo scorso anno Fosse arrivata quarta Avrebbe preso Cristiano Ronaldo Perché Ronaldo Vuole solo la Champions Poi dipende Se tu riesci a sostenerlo economicamente Ma lui voleva rimanere A giocare in Champions E col Manchester United In questo momento Tu non rimani A giocare in Champions Non credo Che Ronaldo Andrà al Marsiglia Però è una Curiosa situazione Che andremo a monitorare Fino all'ultimo giorno Di calcio mercato Alla posizione Numero 4 Attenzione Perché il Liverpool Si sarebbe fatto forte Su Benazer C'è però una situazione Che va a favore del Milan Infatti Benazer Aveva una clausola Rescistoria sul suo contratto Pare però Che il tempo Delle mele Il tempo Della clausola Rescistoria Sia ufficialmente scaduta Quindi È vero che la clausola Era altina 50 milioni di euro Però è anche vero Che la clausola È scaduta Quindi se il Liverpool Che problemi economici Non ne ha Si fosse presentato dal Milan Dicendo Toh Ti faccio 50 milioni di clausola E se Benazer Perché poi questa è una situazione Che va comunque valutata Avesse voluto Accettare L'offerta del Liverpool E quindi andare a giocare In Premier League In quel caso il Milan Non avrebbe potuto fare nulla Ad oggi Il coltello Dalla parte Del manico Del coltello Ce l'ha il Milan Quindi il Milan È padrone Del destino di Benazer Considerando sempre Poi il fatto Che i calciatori Sono padroni Del proprio destino Punto Cioè nel senso Se Benazer Si vede dal Milan E dice Voglio andammene Se no non rinnovo mai più Il Milan lo cede Perché non vuole perdere A parametro zero Questo che è già successo E soprattutto Non vuole farsi mettere I metri in testa A nessuno E non vuole calciatori scontenti Benazer Non è scontento per niente Benazer sta bene a Milano Però è chiaro Come con una clausola Il problema c'era Per me con una clausola Il problema c'è sempre Anche per il calciatore Che sta meglio di tutti Vi faccio un esempio Tonali In questo momento storico Non lascerebbe mai il Milan Nemmeno per sbaglio Mettiamo conto però Che Tonali ha una clausola Si presenta Che ne so Il Paris Saint Germain Paga la clausola Tonali dice Quanto prendi l'anno Io adesso ragazzi Non lo so Sparo 4 e mezzo Perfetto Te ne do 14 E allora Tonali dice Fermi tutti Fermi tutti Io amo il Milan Ma ne prendo 4 mo Per ditte Non lo so Te ne prende 5 6 7 3 e 2 Quanti ne prende 14 E allora In quel caso È normale Che si aprano Degli spiragli E che per primo Io ti dica Tonali Ragiona un attimo Vedi quello che devi fare Ecco Con la senza clausola Invece il Milan Lavora con Benazer Per me Benazer La fine rimarrà Addirittura pare che adesso Ci sarà un rinnovo In cui la clausola è scaduta Ma non verrà messa Nessun'altra clausola Però il Liverpool Guarda attento La situazione relativa A A Benazer Quindi Fatemi fare un attimo Un resoconto Perché secondo me Ho saltato qualche punto 10 9 8 7 6 5 4 3 Quindi questa era 3 Questa è la posizione 3 Alla posizione numero 2 Doppia notizia per la Juventus La prima è positiva La seconda è negativa De Pai Positiva È sempre più vicino alla Juventus Pare che abbia già salutato i compagni del Manchester United Il giocatore non vede l'ora di arrivare a Torino 7 milioni e mezzo di euro di ingaggio netti E oggi pare che ci sia la risposta definitiva Quindi già domani Dopodomani Insomma durante il weekend di partite Potrebbe arrivare De Pai Io ho solo un dubbio Perché io poi sapete amo De Pai Ho fatto un video dedicato sul primo canale In cui ho detto che per me De Pai sarebbe un acquisto pazzesco Per la Juventus davvero pazzesco Ho solo un dubbio Cioè il fatto che si chiude in questo weekend Non credo Uno perché solitamente Durante la settimana delle partite non si chiude mai niente Anche per evitare che ci siano delle situazioni In cui poi in conferenza stampa Perché gli allenatori vanno a parlare in conferenza stampa inevitabilmente Si debba parlare di un nuovo giocatore che ancora non si ha A discapito di altri che invece si hanno La seconda situazione invece È più legata al fatto che Di solito di domenica Di domenica Il calciomercato è sempre stato fermo Sempre Questa è una regola non scritta L'avete vista per tutta l'estate Di domenica non succede mai nulla a livello di calciomercato E questa è una cosa che va considerata Detto ciò Però se De Pai dovesse andare alla Juventus Sarebbe tanta tanta roba La seconda notizia Quella negativa È che qualcuno Iscritto che mi segue eccetera Mi diceva Guarda sic che Paredes arriva in ogni caso Ecco Le cessioni di Arturo e Rabiot Che non stanno arrivando Potrebbero bloccare Paredes Sta cosa deve essere chiara Perché la Juventus l'ha sempre detto La Juventus ha detto Io compro Se riesco a liberare E in questo momento Arturo è lì Rabiot è lì Rabiot rimarrà E probabilmente giocherà anche Perché ragazzi Non credete Ho letto qualcuno Dice sotto il mio video In cui parlavo di Rabiot Dice tipo Eh no sic ma Rabiot allora adesso Se rimane lo mettiamo Sette mesi Mettiamo dodici mesi In tribuna Così salta pure il mondiale Non sarà così Cioè Allegri stravede per Rabiot Quindi lo farà giocare tranquillamente E voi ve lo troverete Tutto l'anno titolare Arturo io spero Per la Juve Che se dovesse rimanere Riusciranno a rivalorizzarle E rivalutarlo Perché per me In realtà Poi questo è il mio Sono i miei duecentesimi Arturo è un gran calciatore Ma che ha la Juventus Non si è mai trovato bene Comunque fatto sta Che questo in questo momento Sta bloccando L'eventuale arrivo di Paredes Se rimangono Queste due Paredes Non arriva La Juventus non fa Arturo Rabiot McKennie Zaccaria Pogba E Non me ne dimentico Perché qualcuno Ce n'ha un botto E prende anche Paredes Attenzione però Perché la Juventus Potrebbe pensare Di sacrificare Zaccaria Per prendere Paredes Qualora non riuscissero Né Arturo E né Rabiot Per me sarebbe una gran cazzata Io Zaccaria Me lo prenderei alla Roma Tanti problemi fisici A questo devo ammetterlo Però quando c'è È un top player E alla posizione numero 1 Un nuovo nome Per il Milan Ragazzi Avevo parlato ieri Del fatto che il Milan Avesse provato a prendere Oni e Dica Se ne sta parlando Di giorno in giorno Però il fatto è che Il Midtilan chiede troppo Allora il nuovo nome È quello di Moriba Ragazzi Moriba Sarebbe un nome ideale Per il Milan Il nuovo nome Quello di cui ancora Non si è mai parlato Quello di cui ancora Non abbiamo parlato Si chiedono 10 milioni di euro Stanno chiedendo al Milan 10 milioni di euro Il Milan al momento Chiede Offre 6 milioni Quindi da 10 a 6 Sono 4 milioni di differenza E 4 milioni che ballano Sono molti Al momento bisognerà capire Se il Milan riuscirà Ad andare sul calciatore Il problema è sempre Lo stesso Tutti i giocatori Che mi punta il Milan Chiedono 10 Tutti i giocatori Il Milan offre 6 E la distanza è sempre 4 Però Moriba È un nuovo nome Per il Milan E al momento però Non si è ancora arrivato A nulla Non si è arrivato A una trattativa Non si è arrivato A niente Ne parleremo nei prossimi giorni Perché il Milan Ha intenzione Low cost Di prendere un difensore Per chiudere questo calcio Mercato E si ragazzi E si E si E si E si Parade Voglio sapere da voi Qua sotto Qua sotto secondo voi Il Milan Quale difensore prende Se lo prende Da qui a fine mercato Iscrivetevi al canale Lasciate tantissimi piace Io vi ringrazio Buonasera All'alene come sempre Ci vediamo Un prossimo video Ciao Ciao